Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Il governo ha varato il decreto Cura Italia, vale 25 miliardi, ne attiva 350, misure per medici, lavoratori, famiglie e imprese. Sentiamo le prime frasi del Premier Conte. Abbiamo appena concluso i lavori del Consiglio dei Ministri e questo è un passaggio importante, quello che c'è stato oggi, perché abbiamo approvato il decreto legge contenente le misure economiche. Il governo è vicino alle tante imprese, ai commercianti, ai liberi professionisti, alle famiglie, ai nonni, alle mamme, ai papà, che stanno facendo tutti, anche ai giovani, che stanno facendo tutti enormi sacrifici per il bene comune, per il bene più alto che è quello della salute, la salute dei cittadini, la salute pubblica. Nessuno deve sentirsi abbandonato, è stato questo il nostro obiettivo sin dall'inizio e oggi questa deliberazione, questa approvazione del decreto legge lo dimostra. Lo Stato è qui, le misure di sostegno e di spinta che sono state inserite in questo decreto ne sono concreta testimonianza, concreta testimonianza della presenza dello Stato. Stiamo offrendo una nostra risposta, una nostra risposta anche sul terreno economico. Possiamo parlare quindi di modello italiano non solo per quanto riguarda la strategia di contrasto alla diffusione del contagio, ma possiamo iniziare a parlare anche di un modello italiano per quanto riguarda la strategia, la politica economica per far fronte a questa grande emergenza economica appunto e sociale. Siamo stati i primi a mettere in campo qualcosa come 25 miliardi di euro di denaro fresco a beneficio del sistema economico italiano, a beneficio delle imprese, a beneficio delle famiglie e attiviamo flussi, attenzione, per complessivi 350 miliardi. Questa è una manovra economica poderosa. Permettetemi di sottolinearlo, non abbiamo mai pensato e dimostriamo di non pensare di poter combattere un'alluvione con gli stracci, con i secchi. Noi stiamo cercando di costruire pienamente partecipi, gli sforzi che tutti gli italiani stanno facendo, una vera e propria diga per proteggere imprese, famiglie e lavoratori. Su questa strada vogliamo che l'Europa ci segua. I segnali, i primi pronunciamenti sono importanti, ma è chiaro che l'Italia è promotrice di un messaggio che si estende a tutte le istituzioni europee. Il ministro Gualtieri, fra un po', adesso lascerò la parola a lui, entrerà nel loro gruppo e io fra qualche minuto avremo una videoconferenza con il G7. L'Italia è in prima fila, dobbiamo agevolare e sostenere gli stati in questa fase facendo tutto quello che serve per aiutare i nostri cittadini. È una partita europea che va giocata a viso aperto con spirito di collaborazione. Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Verona dopo essere entrato in un supermercato urlando sono positivo, creando scompiglio tra i dipendenti e le persone che facevano acquisti. Era stato il personale della protezione civile a segnalare alle forze dell'ordine la presenza di una persona in stato di agitazione che poi però si è rivoltata anche contro di loro. Arrivati sul posto i carabinieri hanno tentato di riportare la situazione alla calma ma l'uomo cercava di sottrarsi ai militari spingendoli più volte. Alla fine l'uomo è stato bloccato e tratto in arresto. Appariva in perfetto stato di salute, dovrà rispondere di procurato allarme. messo in un primo tempo ai domiciliari è comparso in tribunale con rito per direttissima che ha convalidato il suo arresto. Coronavirus in Veneto sono stati decisi dalla regione tamponi a tappeto. Sentiamo le modalità. La regione del Veneto ha approntato un nuovo piano specifico per eseguire ogni giorno un numero elevato di tamponi. Nel giro di una settimana porterà l'effettuazione degli attuali 3.210 al giorno a 11.330 al giorno coinvolgendo secondo le singole potenzialità tutte le microbiologie della rete ospedaliera regionale. I test saranno effettuati a tappeto sulla popolazione con priorità a tutti i 54.000 lavoratori della sanità a quelli delle case di riposo e ai medici di medicina generale. Subito dopo toccherà tutte le persone che hanno dei sintomi ma che oggi come oggi dovrebbero attendere la fine del periodo di osservazione. La filosofia è semplice. Più casi isoliamo, più sicurezza creiamo. Agli 11.330 tamponi al giorno vanno anche aggiunti i 10.000 che fanno parte del lavoro specifico del professor Crisanti, direttore della microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera di Padova, che sta effettuando un lavoro di studio e supporto e approfondimento su alcune categorie dei servizi essenziali come cassiere dei supermercati o operatori dei vari servizi pubblici. La partita dei tamponi è per noi irrinunciabile a sostenuto con forza Zaia, a maggior ragione dopo il risultato di Vò Uganio dove, criticati da più parti, facemmo il tampone a tutta la popolazione isolando 66 casi con il risultato che oggi Vò è il territorio più sicuro d'Italia. La Fincantieri sospende da oggi tutte le attività produttive in tutti gli otto stabilimenti italiani per due settimane, almeno fino al 29 marzo, disponendo la chiusura di tutti i siti con ricorso a ferie collettive, anticipandole rispetto alla chiusura estiva. Si tratta di circa 8.900 unità direttamente dipendenti, cui si somma un indotto di quasi 50.000 persone. Negli otto cantieri, Monfalcone, Marghera, Ancona, Sestriponente, Riva Tregoso, Muggiano, Castellamare di Stabbia, Palermo, è al lavoro soltanto personale addetto alla sicurezza industriale e alla manutenzione degli impianti. A Monfalcone, ad esempio, dove ogni giorno lavorano 6-7.000 persone, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, da oggi sono presenti circa 100 dipendenti. Rimangono invece aperti gli impianti delle società controllate all'estero che comunque seguono le direttive del Paese dove si trovano. E le aziende devono garantire la protezione ai lavoratori che continuano a rimanere in attività nonostante questa emergenza. Misure efficaci di salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere garantite in tutte le aziende che resteranno aperte nel corso di questa emergenza sanitaria. È stato siglato un protocollo con un documento che prevede 13 punti volti a contrastare e prevenire la diffusione del virus. Tra le misure che vi sono all'interno della lista delle disposizioni, eventuale controllo della temperatura ai dipendenti all'ingresso dell'azienda, limitazioni dei fornitori esterni, pulizia giornaliera e sanificazione delle postazioni di lavoro delle aree comuni e di svago. Messa a disposizione di strumenti di protezione per i lavoratori come mascherine, guanti e prodotti per l'igiene delle mani. L'accesso agli spazi comuni, compreso quello alle mense aziendale, aree fumatorie, spogliatoie e contingentato con la previsione di una ventilazione continua dei locali. Limitatamente al periodo dell'emergenza le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o comunque di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work e comunque a distanza. In ogni caso le aziende devono utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali o se non fosse sufficiente utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti. Tutti i dettagli dei 13 punti sono visibili sul sito internet del Ministero della Salute. Pronti a mettere a disposizione mezzi e trattori per procedere alla sanificazione di strade e piazze venete e quanto comunica col diretti veneto che registra il via alle operazioni grazie all'uso di irroratori, nebulizzatori e atomizzatori messi in campo grazie a giovani imprese e al parco macchine dei tanti imprenditori agricoli associati che possono distribuire acqua disinfettante lungo la rete viaria. Si tratta di un'iniziativa concordata con la protezione civile resa immediatamente operativa dopo l'accordo con il Presidente della Regione. I trattori possono operare nelle città e nei paesi riuscendo a raggiungere spiega col diretti anche le aree più interne e difficili dove i mezzi industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle careggiate e per le pendenze dei tracciati stradali. Si tratta di una mobilitazione che rafforza l'impegno degli agricoltori e contoterzisti in questo difficile momento di emergenza dove oltre 60.000 aziende agricole sono impegnate al lavoro per garantire continuità alle forniture alimentari indirizzate ovviamente alla popolazione che si trova in grande difficoltà. E c'è un'altra categoria di lavoratori che si trova in prima linea che è quella dei giornalisti e persone che con il loro lavoro quotidiano devono garantire l'informazione e uscire di casa nonostante l'emergenza costringa la maggior parte a rimanere tra le mura domestiche. Non è un momento facile perché nonostante tutte le misure che possono essere adottate per precauzione il rischio rimane sempre e comunque. In tante redazioni ci sono stati casi positivi che hanno richiesto interventi immediati. Nei giorni tragici questa emergenza sanitaria che sta tenendo tutti con il fiato sospeso è arrivata anche qualche giorno fa. La bellissima notizia invece della liberazione di Luca Tacchetto e Edith Blyse. I due giovani erano stati rapiti in Burkina Faso a dicembre 2018. Sono stati mesi terribili nei quali era stato ipotizzato il peggio anche se la speranza dei familiari non si era mai spenta. La notizia della loro liberazione è arrivata facendo esplodere davvero il cuore di gioia e un abbraccio alla famiglia anche da parte nostra. Cresce il numero dei contagiati all'interno degli ospedali. Purtroppo la categoria medica è quella più esposta al rischio di ammalarsi. Vengono adottate tutte le precauzioni possibili ma il rischio per il personale sanitario è sempre molto elevato. L'attività ospedaliera è stata ridotta. Vengono garantite le attività d'urgenza. Nei giorni scorsi la Regione Veneto ha chiuso anche l'attività intramenia degli ambulatori così come sono stati chiusi gli sportelli Urpa e quelli per il ritiro degli esami. Tutto funziona a distanza tramite il telefono oppure via internet. Stop all'attività chirurgica non urgente che richiede il decorso post intervento in terapia intensiva. Per gli ospedali Veneti è stata riorganizzata l'attività al fine di preservare i posti letto in previsione di eventuali necessità nei prossimi giorni. La settimana centrale di marzo infatti viene considerata quella clou per la manifestazione dei contagi. Per disporre di personale per la gestione dei posti letto aggiuntivi sia di terapia intensiva che semi-intensiva è stato chiesto di ridurre l'attività chirurgica programmata non urgente nell'ottica di recuperare personale per garantire la gestione di questi posti letto attivati secondo il piano regionale per la gestione emergenza Covid-19. Sospensione di tutta l'attività specialistica ambulatoriale delle strutture pubbliche e private accreditate a eccezione delle prestazioni che hanno la priorità come U e B garantendo sia come prime visite specialistiche che di controllo l'attività in ambito materno, infantile e oncologico. Tutti i pazienti coinvolti saranno chiamati al telefono per essere avvisati. Anche gli URP, gli sportelli di prenotazione e ritiro referti saranno chiusi. Funzionerà il numero telefonico e il servizio internet. Queste regole saranno in vigore fino al 15 aprile e sono state deliberate dalla giunta regionale Veneta. E concludiamo con un altro servizio nel quale riassumiamo un po' la situazione con l'invito ancora una volta a rimanere a casa. Numeri impressionanti quelli che vengono registrati in questi giorni negli ospedali del nord Italia. Crescono i contagiati e purtroppo anche i numeri delle vittime. Per i prossimi 15 giorni è atteso il picco dei casi. Proprio per questo motivo l'appello lanciato a più voci è quello di rispettare i divieti, di rimanere in casa. I controlli sulle strade saranno aumentati in questi giorni, proprio al fine di contenere gli spostamenti. Purtroppo tante persone disattendono il decreto ed escono mettendo a serio rischio la loro incolumità e quella degli altri. Purtroppo anche nel fine settimana appena trascorso abbiamo visto scene, in particolare riportate con foto sui social di persone che sono uscite di casa per andare a correre sugli argini. Capiamo che molti hanno difficoltà a rimanere in casa ed è difficile per tutti, ma per riuscire a contenere la diffusione del virus non bisogna uscire. E siamo arrivati al termine di questa edizione dell'informazione. Ringrazio tutti voi per l'attenzione. Vi auguro una buona serata con Telecittà. Arrivederci. Grazie a tutti.